Continuano ad arrivare all'Aquila i falsi bollettini della Camera di Commercio recapitati ad aziende iscritte nel registro delle imprese. Quello che vi mostriamo è un esempio di bollettino recapitato in questi giorni ad un'impresa aquilana. Ben 398 euro da pagare al Centro Servizi Telematici con tanto di conto corrente e scritto. Una truffa vera e propria sulla quale l'ente camerale ha già messo in guardia i suoi iscritti. Si tratta infatti di richieste di pagamento avanzate da soggetti del tutto estranei alla Camera di Commercio. Il diritto annuale tributo che le imprese iscritte al registro delle imprese pagano annualmente viene infatti versato esclusivamente tramite il modello per il pagamento delle imposte sui redditi F24 e non tramite bonifico bancario o bollettino postale. Il termine per questo pagamento coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. La Camera di Commercio invita chi dovesse ricevere queste comunicazioni a rivolgersi sempre all'ente camerale di riferimento, alla propria associazione di categoria o al proprio professionista di fiducia per verificare se si tratta di un vero adempimento obbligatorio o di un'offerta commerciale mascherata come tale.